E' lo specchio dell'identità culturale e sociale di un paese di montagna ricco di storia. E' il museo del costume e delle tradizioni delle genti alpine di Pragelato, ospitato in una casa ultracentenaria in Borgata Rivet, acquistata e restaurata dal comune. Il museo del costume e delle tradizioni delle genti alpine di Pragelato esiste grazie a un ex sindaco di Pragelato che si chiamava Gabriele Bermond, che ci ha creduto, ha acquistato questa casa e poi le amministrazioni successive hanno fatto in modo di mantenere la struttura, di conservarla con tutti i suoi ambienti. E oggi è la casa dei Pragelatesi perché tutto quello che si può vedere all'interno della casa, l'80% è stato donato dalle famiglie. Credo che una comunità forte debba avere dei riferimenti. E questa casa è il riferimento per la comunità perché insegna davvero come si viveva una volta, quali erano gli strumenti della vita quotidiana e quali erano, per esempio, i nostri costumi. Il costume femminile, che era il costume per eccellenza delle donne pregelatesi, viene mostrato all'interno del Museo del Costume in tutti i suoi elementi. Il museo è stato visitato nei giorni scorsi dalla consigliera metropolitana delegata alla cultura, al turismo e allo sport, Barbara Cervetti, che ha potuto ammirare le collezioni di oggetti di uso quotidiano presentati in differenti ambienti, la stalla, la cucina, la camera da letto, il fienile, la cantina e il caratteristico croutin, ambienti in cui si respira il passato e si rivivono scene di vita emblematiche della laboriosità della gente di montagna e della sua propensione alla vita comunitaria. Arrivare a Pragelato ti fa vedere che c'è sport, inevitabilmente perché è una delle mete di cui siamo orgogliosi dalle Olimpiadi in poi per il nostro sci, ma si scopre che poi invece lo sport qui si può fare nella stagione invernale come in quella estiva. E poi entriamo in questo Ecomuseo e scopriamo che c'è anche la cultura. Cosa può fare quindi un amministratore che si occupa del territorio metropolitano? A Pragelato può coordinare quello che gli amministratori, le amministrazioni che si sono sosseguiti, il sindaco di oggi, ma insieme a tanti volontari, alla fondazione che gestisce il museo, coordinare tutte queste realtà. Coordinarle anche con la città di Torino e con altre realtà della città metropolitana, con le scuole ad esempio. Le scuole devono fare un passaggio qui in questa cittadina per quello che riguarda lo sport, per venire a sciare come per fare una bella passeggiata, ma poi devono passare anche nel museo, devono vedere qual è l'origine di una parte del popolo della città metropolitana. Si avvicina alla stagione dello sci, un'indicazione pratica, chi viene a sciare a Pragelato, quando può venire poi finito di sciare a vedere questo museo? Noi con l'8 dicembre apriamo per tutta la stagione, apriamo il sabato pomeriggio, nell'orario dalle 3 alle 6 circa, durante le feste di Natale, il Ponte dell'Immacolata sempre durante le feste di Natale e poi nelle varie occasioni tipo il Carnevale o Pasqua diciamo che lo apriamo maggiormente. Il museo è anche il punto di partenza dei percorsi diretti alle suggestive caratteristiche frazioni, dove si possono ammirare i forni per la cottura del pane, le antiche fontane e le meridiane. Sulla facciata l'associazione Orologium ha realizzato un grande quadrante solare che è diventato l'insegna del museo.